Scorciatoia tastiera, CTRL più A, il tasto che è qua giù in basso a sinistra nella tastiera più la lettera A. Quando io vado a premere questa combinazione di tasti vado a selezionare tutto quello che è contenuto all'interno della mia area di lavoro, quindi se sono su un foglio di questo tipo selezionerò tutto il suo contenuto. Se andiamo ad esempio qua c'è un codice lungo da andare a selezionare, no, non facciamo la mano, premiamo semplicemente la scorciatoia CTRL più A. Se andiamo in Excel invece funziona in un modo un po' diverso perché qui abbiamo delle celle di lavoro, un'area di lavoro, qui andremo a selezionare delle zone, in questo caso lui riconoscerà praticamente l'area di lavoro della tabella e selezionerà tutta l'area in automatico. Per fare questo basterà cliccare in una cella qualsiasi della tabella e premere il tasto CTRL più A. Ecco che ha selezionato la tabella in automatico. Se ho una riga selezionerà solo la riga, se ho la colonna selezionerà solo la colonna in automatico.